Avrete il terzo peso, ma allo stesso tempo il vostro pesco sarà un po' di ciò che ha fatto una nostra simpatica. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Bolaffi, ben trovati, gentili ospiti, ben ritrovati ai tanti che seguite. Davvero un ringraziamento all'inizio della trasmissione va a tutti voi, le nostre puntate numismatiche, le nostre televendite, oggi insieme a parlare di grande numismatica e quindi di grandi monete faremo un percorso insieme attraverso davvero quella che è la storia dell'umanità tutta, la storia della moneta dagli albori fino ai tempi più moderni. Veramente faremo un percorso, mai come in questa puntata, cominciando davvero dall'antico e arrivando fino ai giorni nostri. La Bolaffi la conoscete, per chi non la conosca è importante per me presentarla, l'azienda ormai storica, quest'anno 125 anni di presenza sul territorio internazionale, dedicata ovviamente al collezionismo, al grande collezionismo filatelico, numismatico e filografico. Abbiamo una presenza nazionale, quindi siamo presenti con i nostri negozi a Torino, Milano, a Roma e a Verona, quindi ci trovate nel cuore di queste grandi città e poi, molto bello, molto importante, lo dico subito, consulenti su tutto il territorio nazionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi faremo oggi insieme un percorso in cui vi mostrerò delle belle monete, mi sento di affermarlo con convinzione. Oggi in particolare è una puntata che è anche un po' di sfida nei vostri confronti perché ho selezionato degli oggetti di grandissimo livello. La sfida sta nel capire e cogliere in qualcuno di voi l'attenzione giusta che meritano. Se qualche moneta colpirà la vostra curiosità e vorrete approfittare della possibilità di vederla a casa, nei nostri negozi, senza impegno, ecco l'importanza della telefonata. Ci sono dei numeri di solo impressione, potete chiamare e dire non sto chiamando per comprare quella moneta ma voglio vederla, mi piacerebbe approfondire, conoscere bene tutte le caratteristiche perché evidentemente nel poco tempo che ho a disposizione cercherò di dare alcuni assaggi, come si suol dire, di ogni moneta. La cosa molto importante è che quando avrete la possibilità di vedere proprio sotto a pochi centimetri la moneta, in quel momento con il nostro consulente laddove vi piacerà procedere a quello che poi è la fase successiva, un eventuale acquisto, ci sarà anche la possibilità di stabilire insieme dilazioni di pagamento e quindi l'invito è a seguire la trasmissione e contattarci per chiedere informazioni o per confermare in visione privilegiata la moneta o le monete che colpiranno la vostra attenzione. Direi di cominciare subito perché l'ho detto qualche istante fa, è una puntata davvero molto importante, quindi Alberto diamo pure inizio alla nostra presentazione con subito un volto che con la sua dolcezza, con la sua forza, con la sua bellezza riempie lo schermo, riempie il teleschermo. Quello che è arrivato a voi è una moneta che quando ho avuto la possibilità, è una moneta che è arrivata nelle nostre disponibilità praticamente da qualche giorno, di ammirarla ho fatto davvero un salto sulla sedia perché uno statere di Atena, quindi una moneta d'oro coniata con l'immagine, il volto della dea Atena, della dea appunto, quindi parliamo di mondo greco, di mondo antico, della dea guerriera, della sapienza, questa divinità che viene coniata sulla moneta, ecco siamo di fronte evidentemente a un manufatto, quindi la moneta battuta a mano con un colpo di martello ben 2400 anni fa e questa moneta viene coniata come vi dicevo dove e come e questa è la parte secondo me ancora più interessante. Beh, la moneta viene coniata come vi dicevo nel 311 a.C., siamo durante il grande regno di Alessandro Magno e durante quello che appunto è il percorso successivo alla sua morte quando si cognano monete anche in onore di questa grande figura, ecco sul diritto, il volto di Atena, di un'Atena diversa da quella che a volte ci è capitato di vedere, propria causa o grazie alla zecca particolare in cui è stata coniata questa moneta. Tenetevi forte, questa moneta è stata coniata nell'antica città di Babilonia. Babilonia, quanti ricordi ci fa venire in mente immediatamente questa parola, questa antica città della Mesopotamia che è situata oggi nell'odierno Iraq, 80 km a su di Baghdad. La Babilonia ce la ricordiamo tutti perché è citata nella Bibbia, capitale nel grande impero babilonese tra il VI secolo a.C., e che proprio si arrese alla grande presenza, al grande momento di espansione proprio di Alessandro Magno. Quindi siamo di fronte a una moneta che adesso abbiamo ammirato sul diritto con questo elmo crestato della Dea e con questo bellissimo particolare che mai avevamo visto anche già su altre monete di Atena, quel collier che adorna il collo della Dea, è proprio particolarissimo, ma poi è altrettanto importante e particolare e diventa il rovescio. Posso avere per favore un primo piano del rovescio? È molto bella l'immagine d'insieme. Ma questo rovescio, questo rovescio con la Vittoria Alata, con la Niche in cammino, con la corona che tiene nella destra e l'asta con la sinistra, ma ci sono alcuni particolari mai visti su uno statere di Atena, almeno in quello che è la nostra esperienza. Quindi questo, sotto l'ala delle lettere MI, è a destra, dentro una corona, lo vedete? Si vede rispettivamente a destra e a sinistra poi ci sono due elementi importanti. Quindi vediamo quella MI che indica chiaramente, è la sigla del magistrato monetario, in basso a destra ai piedi della Dea, vedete una corona, ci sono ancora due lettere, una A e P, e poi molto importante, molto molto importante, due elementi che rendono speciale la moneta. Alla sinistra, lungo il bordo della moneta, la parola Basileos, sta a indicare proprio re, Basileos. Una moneta meravigliosa con poi l'indicazione invece di Alexandro nell'altra parte, che si intravede chiaramente perché la moneta ha un insieme di cognatura, dove è stato sicuramente raggiunto il massimo nella centratura, e qualche elemento sul contorno evidentemente è andato un pochino fuori centro. Moneta meravigliosa in una qualità pazzesca, un 40%, vi voglio mostrare il certificato che accompagna questa moneta, perché parliamo di un oggetto importante, raro, antico, dove non deve mancare mai un certificato di autenticità, come in questo caso, scusate, è un certificato che garantisce la provenienza, lo stato di conservazione e l'autenticità. Vedete, la moneta è garantita autentica, l'immagine che vedete fotografica è l'immagine della moneta appena vista, e poi c'è un'indicazione di qualità, di stato di conservazione. Quel 40% ci indica che cosa? Che in una scala percentuale la moneta è al 40%, quindi nel suo stato di conservazione attuale. Questo elemento, questo documento è importante, credetemi, tanto quanto la moneta, e ci riporta poi al catalogo, che contiene poi la descrizione di tutte queste monete e le quotazioni moneta per moneta espresse proprio in termini percentuali. Quindi, grande attenzione a uno statere di Atena fuori dal normale, lo pagate esattamente come un altro statere di Atena, qualcuno l'abbiamo visto in queste trasmissioni, magari zecca di Pella, zecca di Anfipoli, questa moneta, direi di chiudere con una bella immagine di insieme, nel frattempo io poi passo alla prossima, questa bella moneta della zecca appunto di Babilonia diventa veramente imperdibile nell'ambito delle grandi scelte di collezionismo. Posso andare a sostituire anche perché di cose da farvi vedere ne ho molte, non so se riuscirò a farvi vedere tutto, ma insomma credo che sia giusto dedicare la giusta attenzione proprio a queste monete di questo calibro, monete museali, monete che trovate davvero nei musei di tutto il mondo, mai così belle, mai così particolari. Andiamo avanti, avete visto il lotto, avete visto il prezzo, quindi l'indicazione economica è a vostra disposizione così come il centralino proprio per mettervi in condizione, questa è una moneta, lo sono tutte, ma davvero che richiede ogni istante necessario per entrare nel merito di ogni particolare, di ogni dettaglio. Prendiamoci insieme un caffè e facciamolo senza impegno, poi se vi piace e se vi convince e se il prezzo e se il pagamento rientra nelle vostre geometrie, allora solo in quel caso lì l'andrete ad acquistare. Andiamo avanti con un altro grande calibro, passiamo a quel mondo che è un mondo successivo nell'ambito proprio cronologico, per cui dall'antico mondo greco che abbraccia i quattro secoli avanti Cristo, passiamo invece a quello che è il mondo romano. E beh, parlare di mondo romano anche qui ci porta di fronte a un periodo, una vastità di territorio enorme. Noi stiamo parlando della parte più importante, più interessante, anche più, come si può dire, cinematografica, che è l'impero. Ecco, l'impero romano, questo momento di passaggio che si è avuto con Giulio Cesare, con Ottaviano Augusto, e che poi si è andato consolidando proprio con la prima dinastia, con la dinastia appunto che vede, ed eccolo qua, presente un uomo, un imperatore come quello, è figiato su questo aureo. Stiamo di fronte a un aureo di Nero, moneta coniata in oro tra il 64 e il 65 d.C., quindi perché vi dico questa data che è importante? Intanto perché vi fa capire il grosso sforzo che c'è nella ricerca di tutti i dettagli di ogni moneta, andando addirittura a datare con precisione la moneta che vi stiamo proponendo. Nero è imperatore tra il 54 e il 68 d.C., e quindi questa è una moneta che ci porta proprio verso la fine dell'impero, quando Nero ormai ha realizzato un percorso che tutti sappiamo lo ha visto sicuramente più attento al bel vivere che ha il buon governo e quindi sicuramente il suo percorso e poi la sua morte sarà accolta con grande sollievo. A Nerone si fa risalire la colpa dell'incendio di Roma, in realtà la figura di Nerone è stata rivalutata molto negli ultimi periodi fino ad arrivare, proprio rispetto all'episodio dell'incendio di Roma, a dire e a sostenere che anzi si adoperò per lo spegnimento. Nei fatti l'incendio di Roma libera lo spazio per la costruzione della grande domus aurea che appunto era la sua residenza. Questo aureo autentico, in qualità meravigliosa, con un volto di Nerone, vedete, davvero così come siamo abituati a conoscerlo. Ma riflettete un attimo insieme a me sul fatto che quel volto che vi sta così in qualche maniera invitando alla telefonata è il vero volto di Nerone, non è una rappresentazione moderna, non è un'intuizione di qualche artista moderno che ha pensato a Nerone e l'ha immaginato così. No signori, queste sono le istantanee della storia, sono quelle monete che arrivano proprio dal passato che allora servivano proprio oltre che per essere utilizzate evidentemente per quello che venivano creato, cioè per essere spese, erano anche un sistema mediatico di comunicazione, cioè l'imperatore lo conosceva attraverso le monete. E il volto di questo Nerone con questo collo taurino, questo elemento davvero così profondo, fa difficile da trovarsi così ben conservato. Questo è un aureo molto molto bello, soprattutto nella parte in cui, come stiamo vedendo il diritto, abbiamo l'effigio e l'immagine di Nerone. Se andiamo a vedere anche il rovescio, godiamo poi di quella che è la scelta importante e consapevole di Nerone nel voler far coniare sulla rovescio, ed era proprio l'imperatore che sceglieva e supervisionava la coniazione delle monete d'oro e d'argento, chi? Giove, e quindi il re di tutti gli dei, il padre di tutti gli dei, Jupiter, vedete, ben evidenziato, custode in latino, ecco quindi che con questa moneta il messaggio che Nerone vuole darci e voleva dare è proprio che io ho l'attenzione del padre degli dei, quindi ho la massima raccomandazione possibile, se vogliamo usare un termine moderno. Ecco, io vi sto raccontando storia, vi sto parlando, vi posso dire che questa moneta pesa 7 grammi e 29, 19 mm di diametro, ma la cosa che vi deve essere chiara è che vi sto presentando monete che hanno una forza nell'ambito proprio della loro storia e non può lasciarci indifferente questa storia, è una storia dell'umanità tutta, ma è una moneta che si va appena inserire in un concetto di vero bene rifugio. E siamo in un'economia davvero in cui di certezza ce ne sono poche, ecco che destinare i propri danari a monete, come in questo caso, che hanno visto di tutto, se poi pensate questa moneta ha più di 2000 anni, e allora guerre, carestie, crisi, quindi tutto quello che di più negativo vi viene in mente, la moneta l'ha avuta. Ecco quindi che, immaginate e riflettete su questo, questa moneta fra 10 anni, fra 20 anni, sarà meno importante? No amici, questa moneta vive un passato glorioso, ha vissuto anzi un passato glorioso, vive un presente altrettanto importante e ha un futuro radioso davanti a sé, perché, e qui c'è l'aspetto molto concreto, molto tangibile, molto poco romantico e molto pragmatico, e le monete d'oro romane, le monete d'oro greche, le grandi monete dell'umanità, sono collezionate in tutto il mondo dai grandi, grandi operatori finanziari e chiaramente amanti del collezionismo. Quindi sono oggetti che non si possono più fare, sono beni irripetibili, e quindi possederne uno, significa blindare una parte del proprio risparmio su oggetti che nel tempo non possono che aumentare di valore, questa è la storia recente, lo dimostra, siamo pronti a dimostrarvelo, metteteci alla prova, 8.665 euro soltanto, lasciatemelo dire, per un euro di nerone pazzesco. Andiamo avanti, se riusciamo posso tranquillamente muovere, ecco, un'altra sorpresa di oggi, ve l'ho detto, è una raffica dietro l'altra di grandi monete, quindi mi perdonino oggi, e nulla me ne vogliano, quelli che normalmente nelle nostre trasmissioni individuano anche il cosiddetto invito al collezionismo, voi lo sapete, abbiamo monete, offerte, proposte anche da poche centinaia di euro, che non sono né meno belle né meno importanti, sono semplicemente un po' più comuni, e allora magari oggi fate fatica a capire questo concetto, perché stiamo vedendo oggetti davvero molto importanti. Ma questo il mercato in questo momento ci ha chiesto, e questo voi ci state chiedendo, cioè la concretezza dei grandi oggetti. Parlavo proprio qualche giorno fa con un cliente nuovo che mi diceva, ho capito che devo investire su grandi rarità, lo ha detto lui, perché se lo dico io è cosa semplice. E allora ecco che la moneta che andiamo a vedere adesso, ancorché in argento, quindi in un metallo meno scintillante, meno brillante dell'oro, è importante tanto quanto, se non di più, rispetto proprio all'aureo di Nerone appena visto, perché siamo di fronte a uno dei rarissimi, rarissimi, e lo ripeto davvero d'alta voce e con convinzione, denaro d'argento dell'imperatore Caligola. Caligola è un imperatore che la storia, chi ha studiato un po' di storia, ma basta semplicemente riprendere un libro, è un imperatore che governò per pochissimo tempo, e per soli quattro anni, dal 37 al 41 d.C., all'inizio Caligola fece un buon lavoro, corrispose pienamente alle aspettative, ma ben presto diede segni di squilibrio e si abbandonò a stranezze ed eccessi di ogni genere. Durati, pensate, tre lunghi anni, dopodiché, esasperati, una congiura dei pretoriani fa sì che venne assassinato, con sollievo chiaramente da parte di tutti. E questa, che è la storia, ci regala una moneta che assume quindi un livello di verità clamoroso, perché in quattro anni soltanto le monete coniate sono molto poche. Il prezzo di una moneta in funzione ha due elementi fondamentali, la disponibilità e lo stato di conservazione. La disponibilità e lo stato di conservazione. Allora è chiaro che se, parliamo di imperatori romani, se un imperatore romano ha vissuto e governato per dieci anni, per vent'anni, come potete immaginare, ha avuto il tempo di coniare tante monete. Se un imperatore ha vissuto soli quattro anni, è stato assassinato per l'esasperazione, le sue monete quindi sono state cognate in numero ridicolo, in più quelle poche che ci sono salvate sono state fuse, maltrattate, distrutte, proprio per una sorta di rappresaglia morale nei confronti di quest'uomo. Quindi io non voglio vedere più l'effigio di Caligola, questo era lo spirito dei romani. Allora voi capite che siamo di fronte a una moneta che, se, come capita spesso, c'è qualche curatore di qualche mostra, di qualche museo all'ascolto, sicuramente ci chiama perché una moneta di questo tipo, con soprattutto, e adesso aspettiamo ancora un secondo a svelare il rovescio, con il rovescio che vi farò vedere, non c'è così bella, così importante, se non in pochissime baccheche di importantissimi musei. Vediamo il volto, molto rigoroso, anche quasi cattivo, così com'era, di questo Caligola. La moneta fu coniata nel 41 d.C., proprio quando l'anno della congiura, quindi Caligola ormai è andato fuori di testa, come si dice, aveva, ricordiamo, nominato senatore del cavallo, quindi immaginate un po'. Caligola, però, nel 41 d.C., ricordiamo che anche le monete d'argento venivano coniate con la supervisione dell'imperatore, su input per l'imperatore stesso, vuole fare un tributo, in un momento di lucidità, a una donna, a una donna importante. Andiamo a vedere il rovescio. E' quella che vedete coniata su questa moneta, tra l'altro di una bellezza, per le tecniche di coniazione, per i canoni di coniazione romana fuori dal comune, non è una donna qualunque nella vita di Caligola, ma è la sua cara e amata madre, Agrippina, che viene coniata, cosa molto rara, sulla moneta, sul rovescio di questa moneta, con la proprio leggenda Agrippina, madre del Germanico, dell'Augusto Germanico, perché ricordiamo che Caligola, non si chiamava Caligola, si chiamava Caio Giulio Cesare Germanico, Caligola, tra virgolette, è un soprannome, non è neanche tanto tra virgolette, accompagnando il padre, appunto il Germanico, negli accampamenti militari, indossando la tipica calzatura dei legionari, la Caliga, quindi prende e assume questo nomignolo di Caligola, che si porterà avanti per tutta la vita. Quindi andiamo a vederle veramente affiancate, questo atto di amore folle, se vogliamo, di un folle, quindi diritto a rovescio di questa moneta, non sono due monete, ma stiamo ammirando il diritto a rovescio. E allora ecco che i 9.450 euro, qualcuno di voi sta pensando, ma scusate, ma prendo un aureo di Nerone a 8.600, perché devo scegliere un argento a 9.400? L'oro mi dà l'idea di maggior valore. Ebbene, questo evidentemente non è del tutto vero, perché sicuramente la rarità, come vi dicevo poc'anzi, come vi ripeto, data dai numeri e dall'importanza monumentale di questo rovescio, fa sì che il denaro di Caligola, che stiamo ammirando, deve andare, secondo il mio buon consiglio, nella collezione di uno dei nostri grandi e tanti collezionisti, a cui manca una casella così importante, ma può andare anche, sicuramente, a diventare una numero uno in un inizio di raccolta, perché ho il singolo oggetto. Vi voglio far vedere una cosa importante, per favore puoi inquadrarmi il certificato, Alberto. E volevo far vedere una cosa che magari a qualcuno può lasciare stupito. 3 novembre 2009, questa è la data del certificato. Allora uno dice, va bene, ma Lorenzo la stai magnificando e ce l'hai in magazzino da sei anni questa moneta. Questa moneta, pensate, che è appena rientrata in Bolaffi, era stata venduta nel 99 a un collezionista, cosa che capita normalmente, ecco quindi il concetto di qualche minuto fa del bene rifugio, la compro, la conservo, analizzo gli andamenti che per fortuna negli ultimi 50 anni sono in crescita, scusate, questa è la collezione greca e questo è il catalogo delle monete romane, e arriva un momento in cui c'è bisogno di chiudere il cerchio. Allora ecco che magari quello che era stato anche proprio solo un investimento, viene a diventare uno smobilizzo. E allora ecco che Bolaffi è pronta a ricomprare in qualunque momento le monete che ha venduto, con gran piacere. E quello che è successo, perché vi faccio vedere questo certificato, che la moneta ovviamente è rientrata esattamente nelle stesse condizioni in cui noi l'avevamo venduta sei anni fa. Perché se le monete non le maltrattiamo rimangono esattamente nella stessa strada di conservazione. Quello che sarà cambiato nel frattempo è il valore del catalogo, con grande piacere da parte del collezionista, in questo caso come normalmente avviene degli eredi di questo collezionista, di questo nonno lungimirante che hanno gradito sicuramente l'importante regalo. 9.450 euro per un denaro di Caligola? Signore io vi sto, non voglio fare nessun paragone con opere d'arte, dipinti, ma qui stiamo di fronte ai grandi veramente pittori. Ecco quando voi pensate, se io penso ad un pittore importante, penso a un De Chirico, se penso a un Fontana, quando parliamo di denari romani, un denaro di Caligola è a questo livello, quindi fateci sicuramente un'ottima e giusta riflessione. Ma siccome è uno dietro l'altro, ma ve li voglio far vedere in tutta bellezza, perché è una nostra scelta e voi ci state premiando, in tv portiamo le primizie, in tv portiamo le cose più belle, le cose appena arrivate, vi diamo diritto di prima scelta e vi ringraziamo, a me è quasi dieci anni che facciamo queste trasmissioni, quindi ci avete dimostrato attenzione e anche affetto, se vi posso permettere, ecco che per questo noi vogliamo che siate i primi a poter scegliere. Allora l'avete visto già una dietro l'altra, una Atena di Babilonia pazzesca, Nerone, Caligola con Agrippina sul rovescio, e poi forse l'aureo di Tito più bello che il sottoscritto abbia avuto modo di vedere è probabilmente uno dei più belli in circolazione su tutto il mercato internazionale. Tito, questo imperatore che ricordiamo fu imperatore tra il 79 e l'81 d.C., e anche lui quindi visse poco, però ebbe sicuramente una maggior presenza sulle monete grazie al fatto che già suo padre Vespasiano, identificato in lui il successore alla sua morte, ecco che come d'abitudine coniava monete col volto del figlio Tito. E infatti questa è una importante, rara moneta di Tito coniata durante l'impero di Vespasiano. Ma quello che vi potrei raccontare la storia di Tito, ma sulla storia come sempre vi dico potete andare a documentarvi, pensate soltanto che durante il suo impero ci fu l'eruzione di Pompei, se ne sta parlando proprio in questo periodo di Pompei, e di quelle che sono ancora queste figure umane ricoperte dalle cenere e dalla lava. Fu un periodo veramente triste per il suo governo, è successo veramente cose molto, terremoti, l'eruzione del vulcano, l'unico momento davvero bello che si possa ricordare che lui poteva vivere fu l'inaugurazione del Colosseo che si ebbe nell'80 dopo Cristo. Ecco, questa è la storia di Tito, ma qui lo vedete anche, i prezzi noi li scriviamo nero su bianco, anzi bianco su blu, però perché non c'è da far nessun giro di parole. Qui siamo di fronte a un aureo di Tito al 60% di qualità, quindi una qualità che gioco forza con tutto quello che vi ho mostrato oggi, ma proprio perché arrivano tutti da una grande raccolta, ecco di nuovo che siamo riusciti a rifar nostra questa raccolta. Un Tito con un livello di dettaglio, guardate i capelli, guardate la corona da loro con questo fiocco che pende sulla nuca, ma la barba, i punti della barba, si vedevano anche sulla moneta di Nerone, la leggenda pulita, il volto, gli occhi vivi, vispi di questo Tito. È un 60%, il 60%, signori, chi ha visto da noi monete, lo sa, è praticamente il fiordiconio, oggi si avvicina per pochissimi punti. Ed ecco quindi che qui siamo di fronte di nuovo a quella moneta che richiede la giusta attenzione da parte vostra. Il rovescio di questa moneta diventa la ciliegina sulla torta, quell'elemento che se mai ci fosse bisogno di aggiungere per ancora convincere a fare qualche cosa, io non voglio convincervi a comprare, immaginatevi un po' se uno telefona e compra una moneta da 21 mila euro, appunto con una telefonata. Ma con una telefonata il più attento di voi e anche il più veloce può invece chiedere di vederla in maniera privilegiata, perché la televisione ci aiuta, ma non è la stessa cosa, le luci, i riflessi, è una moneta che va vista con una buona luce del giorno, con una lente e perché no con un caffè o una bibita fresca. E poi ci si ragiona intorno e poi si va a costruire magari quello che può essere un percorso di pagamento dilazionato, perché mi rendo conto ed è normale che oggetti di questo livello meritino questo tipo di approfondimento. Il rovescio, e il rovescio non c'è bisogno che ve lo racconti, perché un toro così in carica, che ci guarda con un'aria minacciosa, è così ben definito in tutti i suoi elementi, nella sua muscolatura, vi ricordo che tutte le monete che vi ho mostrato sono manufatti, quindi monete battute a mano con un sol colpo di martello. Aureo di Tito, oro, 7 grammi e 33, 20 mm, godiamone nel diritto del rovescio di questa grande qualità, qui chiaramente mi rivolgo in maniera davvero privilegiata a quei clienti che hanno fatto con me una scelta giusta di privilegiare magari la scelta di poche cose ma di qualità molto alta. Beh, qui siamo proprio di fronte a quella caratteristica, cioè una moneta di qualità molto alta. E quindi qui si va a scegliere o per l'importanza di inserirla in raccolta, o perché no, per farlo diventare davvero quel bene rifugio, quell'elemento che andremo poi a inserire proprio nel patrimonio della nostra famiglia, della vostra famiglia. Bene, a questo punto, Alberto, allora aspetta, io faccio una cosa, le metto così cominciando poi, cominciamo da questa e le vediamo poi tutte e tre insieme. Bene, allora io vi ho mostrato quattro monete dell'antichità, è un po' storta, quattro monete dell'antichità molto particolare, molto particolare, molto belle, molto rare, quale scegliere. Io il consiglio che vi do è telefonate e siate anche così provocatori nel dirci portamele tutte e quattro, portami le tre romane, oppure portami la greca e poi scelgo. È un privilegio, un diritto che avete, non costa nulla e se non, vedete, se uno di voi mi chiama per valutare una moneta da 20.000 euro e io vengo apposta a trovarlo, io, i miei agenti, i nostri consulenti, e se in quel momento non l'avete comprata, non è un problema, avrò comunque conosciuto una persona che ha, ovviamente nei suoi orizzonti, la possibilità, la voglia di scegliere oggetti di quel livello. Magari sarà per la prossima volta, però ecco perché è il nostro lavoro, lo facciamo volentieri e non vi dovete sentire impegnati in nessun modo. Chiaramente dateci voi un cenno. Bene, adesso facciamo invece un percorso, dopo aver visto, ve lo dicevo, l'antica Grecia, il mondo romano, e adesso passiamo a un periodo un pochettino più vicino ai giorni nostri, passiamo cioè a quelle che sono le monete d'oro dei pontefici, dei grandi papi. Bene, oggi ho voluto selezionare per voi tre aurei, tre monete da 100 lire che sono appartenute ai primi tre papi. Qualcuno dirà, ma cosa vuol dire che il primo papo fu San Pietro? No, parliamo dei primi papi della città del Vaticano, quindi parliamo di quei papi che dal 1929, e quindi con i patti lateranensi e con Pio XI, diedero la vita a quella che chiamò la città del Vaticano. Prima ricordo che parlavamo di, chiaramente non parlavamo di città del Vaticano, ma di stato pontificio. Bene, il primo pontefice che realizzerà quindi questo percorso, questo passaggio fu proprio Pio XI. Quello che vi sto mostrando, e ve lo mostro in una puntata, come vi dicevo, veramente da mille e una notte, vi sto mostrando il 100 lire cosiddetto di Cristo Re di secondo tipo, e di secondo tipo semplicemente perché? Perché fu realizzato, questa moneta fu realizzata, in due momenti differenti, tra il 29 e il 35, e tra il 36 e il 38, infatti vedete l'esemplare che vi sto proponendo, è del 1936. Quella del prima, il primo tipo, era di diametro un po' più grande, poi nel 36, proprio perché ci si va ad adeguare agli standard delle coniezioni del Regno d'Italia, la moneta subisce semplicemente una ricongnazione con un diametro più piccolo. Bene, questo è il famoso 100 lire, è raro, del 1936, tirato in soli 10.239, con l'immagine, vedete, del Cristo Re che è sul diritto, scusate, sul rovescio, e invece sul diritto, ve lo vado a mostrare subito, proprio quel Pio XI, quel primo pontefice, che si trovò a siglare, appunto, i patti lateranensi, o meglio, a diventare il primo papa, proprio di questa città del Vaticano. Le monete della città del Vaticano sono monete collezionate in tutto il mondo, lo sono da sempre, in maniera particolare, quelle degli ultimi anni, quelle poi degli ultimi papi, non si fa fatica a farle, voglio dire, il giorno dopo sono esaurite. Ma queste sicuramente sono monete che hanno già quasi 100 anni, quindi sono monete che stiamo offrendo, siamo all'inizio, ve lo dico molto serenamente, abbiamo appena pubblicato, ve lo faccio vedere, il catalogo, lo state aspettando in tanti, l'ho annunciato parecchie volte, uscirà il catalogo, uscirà il catalogo, eccolo qui, catalogo della collezione delle monete della città del Vaticano, 29-2001, quindi di tutta quella collezione in lire. E guardate, non a caso, la copertina è proprio dedicata alla moneta del Cristo Rebbe, ottimo lavoro Enrico. Questa, vedete, è quella di primo tipo, identica poi nel suo conio, semplicemente quella del secondo tipo fu realizzata in dimensioni più piccole. Quindi siamo all'anno zero, siamo a un listino veramente interessante, la moneta che state vedendo è nella qualità massima possibile, disponibile, il 90%, ve la stiamo offrendo a 1350 euro da confermare al volo, se chiaramente le monete che abbiamo visto un qualche minuto fa, monete dove gli zeri aumentano e quindi magari richiedono un momento più di riflessione, questa che, vi ripeto, coniata in soli 10.239 contro i 25.820 del primo tipo, al 90%, non ce l'abbiamo mai, non ce l'abbiamo mai. Bene, questo è il primo 100 lire di Pio XI, proseguiamo invece nella carrellata e andiamo a vedere una seconda moneta che invece ci porta al 1958, ci porta quindi a quel momento in cui, non le ho messe in ordine cronologico, ma pazienza, questo qui è il 100 lire coniato durante il pontificato di Papa Giovanni XXIII. No, chiedo scusa, chiedo scusa, questo è il 58, no, no, questo, ho fatto un errore, è il 100 lire coniato nel 1958, ultimo anno di vita di Papa Pio XII. Questo è il famoso 100 lire, il cosiddetto stemma. Stemma, ovviamente, lo vediamo, perché voi sapete che ogni pontefice ha, quando diventa Papa, sceglie due cose, il nome è lo stemma che lo identificherà per tutta la vita. Questo è lo stemma che scelse Pio XII e che volle proprio che fosse coniato sul 100 lire, su quel 100 lire che stiamo vedendo in questo momento inquadrato e che Pio XII, appunto, Eugenio Pacelli, questo Papa romano di Roma, tanto amato dai romani, che visse un periodo storico di grandissimo, di grandissime difficoltà. Lui, pensate, fu Papa tra il 39 e il 58, quindi parliamo di Seconda Guerra Mondiale, parliamo di leggi razziali, quindi sicuramente un Papa che proprio per la sua figura si trovò a vivere in maniera decisamente complicata e complessa. Ve lo voglio mostrare il volto di questo Pio XII, abbiamo visto quello di Pio XI sulla moneta poc'anzi mostrata ed eccolo qua invece su questo 100 lire di Pio XII dello stemma il volto proprio maturo o anche abbastanza affaticato, lui poi nel 58 muore e quindi questa moneta se vogliamo che fu coniata solo nel 57 e nel 58 è da scegliere in maniera particolare e visto che c'è per due motivi, il primo e lo vedete scritto anche questa al 90% quindi una qualità di nuovo fuori dal comune e poi anche non ultimo per l'anno quindi questo 58 che la rende in qualche maniera speciale proprio perché è nell'ultimo anno di vita di Pio XII. Pensate che bella accoppiata. Se vogliamo fare un bel tris proseguiamo e quindi vi ho portato le tre monete i 300 lire dei primi tra i papi vi faccio vedere il terzo ma non ultimo lo è in ordine cronologico 100 lire quello del 59 dell'anno successivo cosa succede nel 59 nel 59 nel 58 viene eletto alla morte di Pio XII Giovanni XXIII Papa Roncalli e Papa Roncalli questo uomo nato sotto il monte in pregio di Bergamo e nel 1881 il Papa Buono tutti lo ricordiamo come per una frase famosa quando disse andate a casa e portate date una carezza ai vostri bambini e dite che questa è la carezza del Papa ecco queste poche parole forti c'era proprio la sua la sua il suo essere un Papa vicino al popolo un Papa che se vogliamo è anche un po' diverso e innovatore proprio per approccio rispetto a quelli che erano i più rigorosi papi precedenti dobbiamo poi arrivare a Papa Voitila Giovanni Paolo II e a Papa Francesco per trovare di nuovo un uomo così vicino al Papa ecco questa è una moneta molto rara questa è una moneta molto rara e l'avete già intuito andando a leggere la titolazione col prezzo vedete 4.000 euro perché è molto rara? beh è molto rara perché vi dicevo prima che le tirature di questa moneta sono molto basse e sono soltanto pensate 3.000 esemplari questo è un esemplare in qualità molto alta anche lui all'80% non lasciatevi distrarre o magari sfiduciare e qui davvero vi invito poi piuttosto proprio la conferma alle mie parole chiedete di vederla a casa questa moneta perché qui le patine assorbono la luce la riflettono e danno quel senso di opacità che la moneta non ha se io la prendo e ve la faccio vedere con la luce naturale messa su un tavolo quindi moneta in qualità anche questa straordinaria molto rara ecco se uno di voi dovesse dire io non ho voglia di comprare tutte le monete oppure ho un percorso che voglio fare nel tempo la monetazione della città del Vaticano beh se dovete essere conservativi comprate subito Giovanni XXIII perché è quella più rara quella più difficile da trovarsi quella più difficile da trovarsi in qualità alta chi ce l'ha se le tiene e quindi all'80% è da scegliere immediatamente il consiglio di nuovo che do io le chiamo le scelgo tutte e tre in visione e poi magari a 400 euro al mese questa moneta l'ha portata a casa volete fare un piano di pagamento lungo negli anni non amo io in televisione fare gli esempi le rate le cose io vi dico che accontentiamo tutti quindi il giorno che chiamate dite io questo 100 lire stemma lo vorrei acquistare ho questa possibilità mensile credetemi se non diventa veramente una roba impossibile io anzi a memoria mia è più di 20 anni che faccio questo lavoro non abbiamo mai scontentato nessuno quindi lasciatevi quanto meno fare i conti come si suol dire se vi fa piacere quindi rivediamone un momento se riusciamo tutte e tre insieme in una o in una carrellata anche senza le ecco anche senza le 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 scalie dei prezzi però volevo farvi vedere i tre volti Giovanni ventitresimo molto bene Alberto Pio dodicesimo e poi appunto andremo a vedere Pio undicesimo il Cristo re di secondo tipo lo stemma del 58 di Pio dodicesimo e il rarissimo cento lire di Giovanni ventitresimo bene 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 andiamo avanti a questo punto però magari ho bisogno di un primo piano di una canna non so come volete fare decidete voi perché io qui davanti ho una scaletta con una sfizza di lotti e di nomi e però quello che voglio farvi vedere è l'insieme ecco quello che ho tra le mani e tamborello un po' per creare come si suol dire la giusta suspense è un qualche cosa che aspettavo di avere da mesi perché mi è capitato di averlo lo avete visto lo avete telefonato lo avete confermato lo avete stracomprato ci avete straringraziato e molti hanno chiamato dicendo invece ma un altro si può avere bene come noi facciamo sempre non vogliamo giustamente a fronte di diverse richieste avvantaggiare uno piuttosto che l'altro quindi siamo a dire ne abbiamo disponibile uno ve lo vado a mostrare vi racconto di cosa sto parlando signori abbiamo la collezione completa completa qui abbiamo addirittura i certificati originali abbiamo la collezione completa della monetazione in oro di Papa Giovanni Paolo II definita verso l'anno santo vale a dire quella monetazione che è stata coniata a partire dal 1996 lo stiamo ammirando e poi ha proseguito nel 97 nel 98 nel 99 e nel 2000 in quegli anni quindi in quei 5 anni che hanno accompagnato verso l'anno santo verso il giubileo Giovanni Paolo II ha annunciato il giubileo del 2000 e ha voluto che venissero cognate delle monete con tutte le basiliche di Roma e quindi San Giovanni in laterano San Paolo fuori dalle mura Santa Maria Maggiore e San Pietro rispettivamente nelle monete che vanno dal 96 quindi nel 96 abbiamo San Giovanni nel 97 abbiamo San Paolo fuori dalle mura nel 98 Santa Maria Maggiore San Pietro nel 99 nel 2000 poi fu realizzato il conio cosiddetto di verso del figlio il prodigo e della crocifissione per quanto riguarda il 100 e il 50 mila allora per darvi qualche dato tecnico intanto giustamente ecco stiamo vedendo dalla regia una cosa importante allora ascoltate bene le coppie sono formate da un 100 mila e da un 50 mila uno per l'altro il 50 mila costano 800 euro i 100 mila costano 1700 euro quindi un dittico lo pagate 2500 euro allora io quello che voglio dirvi e il consiglio che voglio darvi è che andate a chiamare per confermare un dittico piuttosto che l'altro cercheremo di accontentarvi ma il cofanetto completo andrà in scelta privilegiata ad uno di voi quindi cosa succederà succederà che in molti di voi chiamerete chi per primo dirà lo voglio valutare attenzione non è un obbligo d'acquisto lo voglio valutare tutto allora andrà in scelta privilegiata gli altri invece potranno scegliere di avere un dittico piuttosto che l'altro in maniera successiva quindi non ho voluto il conto poi lo fate tranquillamente 2.500 per 5 e vedete quanto fa fa 12.500 quindi il cofanetto completo costa 12.500 i 50.000 e i 100.000 sono stati coniati in tirature davvero molto molto basse sono catalogate adesso ve li faccio vedere sul catalogo parliamo di 6.000 esemplari per ogni dittico vi faccio vedere ad esempio così almeno impariamo anche a conoscere il catalogo guardate ad esempio questo è il primo lo stiamo quello è il 96 ecco vedete questo è il catalogo della città del Vaticano che abbiamo visto prima 50.000 dedicato a San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista e poi abbiamo il 100.000 dedicato alla Basilica di San Giovanni in Laterano come vedete queste monete hanno tutte una caratteristica cioè sul diritto il volto di Giovanni Paolo II adesso ne prendo in mano una a caso Enrico così la faccio vedere e poi sul rovescio appunto il soggetto dedicato alla Basilica in questo caso San Giovanni in Laterano quindi cosa succede? succede che ne prendo ecco la prendo in mano ad esempio questa moneta proprio quella che abbiamo visto vedete dimensioni prezzo sono monete fior di conio qualità 100% in tonse incapsulate così come sono nate mai nessuno le ha toccate certificati bolafio quando possibile quelli originali addirittura della città del Vaticano fior di conio fondo specchio meravigliose queste sono le immagini del rovescio e poi vedete questo oscuro che prendono è dato proprio dal fatto che specchiano la camera di fronte che è nera guardate ne poso una così la posso maneggiare meglio questo è il diritto il volto di Papa Giovanni Paolo II di Papa di questo uomo che è diventato ha fatto tutto il suo percorso chiaramente è diventato Papa e oggi è diventato Santo e quindi voi immaginate solo una cosa e vi invito a riflettere su una cosa le monete di Papa Voitila sono monete amate in tutto il mondo per l'uomo per il personaggio per il pontefice sono monete che nel 90% e non sparo a caso sono finite ai collezionisti polacchi che le hanno comprate a caro prezzo pagandole agli abbonati guardate il fondo specchio come si riflette bene la penna nella moneta la vedete no? questo questo gioco di specchi forse col dito si vede meglio guardate ecco vedete guardate la penna guardate che meraviglia ecco quindi sono monete introvabili ecco guardate questa è la mia penna che si specchia questo per farvi vedere la lucentezza e la bellezza dell'oro bene io oggi ho una cosa che capita davvero di rado il cofanetto completo quindi la possibilità di dire vado a scegliere completo tutto se e quindi con due possibilità magari di scegliere tutto di pagarlo a rate oppure per chi di voi invece dice Lorenzo bello è un percorso che vorrò fare pian piano e allora ci chiami e magari ne andiamo a scegliere uno un paio ecco una soltanto questo ve lo vediamo come possibilità chiaramente in scelta privilegiata ci sarà chi di voi potrà dire e vorrà dire portamelo a vedere completo completo le monete di papa Giovanni Paolo II vi voglio far vedere il dittico del 2000 che non è più dedicato alla porta santa chiusa perché nelle prime quattro serie nelle prime quattro dittici Giovanni Paolo II ve lo faccio vedere sempre lo stesso vedete sullo sfondo c'è la porta santa chiusa in quella formella quadrata eccola qua nel 2000 finalmente il giubileo e quindi la porta santa la porta di San Pietro che sarà la prima ad aprirsi e poi darà il là all'apertura di tutte le altre porte nel 2000 però a quel punto a porta santa aperta ecco che il soggetto sarà quello proprio del figlio del prodigo e della crocifissione ve lo faccio vedere bene così questa è una coppia bellissima e qui vedete sul diritto sul rovescio appunto la crocifissione sul 100.000 e queste immagini appunto del figlio del prodigo del ritorno della parabola del figlio del prodigo sul 50.000 e poi Giovanni Paolo II lo faccio vedere sul 100.000 che si vede molto bene eccolo qua non più a figura a mezzo busto appoggiato al pastorale ma nel suo dolcissimo volto che riconoscete immediatamente monete veramente di grande effetto ancora a prezzi molto interessanti chi ci segue da tempo avrà visto come già in pochissimo tempo le quotazioni sono cresciute non lasciatele scappare perché sono destinate ad andare ulteriormente alle stelle ma lo lascio qui perché perché nel 2000 si conclude appunto la coniazione dedicata al giubileo all'anno santo a quello che era appunto questo percorso chiamato verso l'anno santo le prossime due monete invece vanno a essere un po' una news davvero una novità mai vista in queste presentazioni televisive pensate che siamo riusciti a trovare ve le faccio vedere nel suo cofanetto originale così vedete anche quanto belle sono poi questi dettagli che non sono dei propri dettagli perché avere a disposizione anche le confezioni originali è un valore aggiunto a quello che è il grande cofanetto quindi delle monete verso l'anno santo dal 96 al 2000 si va ad affiancare l'ultima coniazione in lire fatta da Papa Wotila da Papa Giovanni Paolo II quindi qui disponibili adesso ve le faccio vedere proprio nel cofanetto originale poi le vado a mettere sull'espositore il 100.000 e il 50.000 proprio coniati nel 2001 monogramma di Cristo questo è il 100.000 che stiamo ammirando sul suo diritto dove l'immagine quella appunto di Giovanni Paolo II completamente stravolto come conia come tipologia manteniamo dimensioni peso ma siamo di fronte a una moneta guardate firmata ancora dal Veroi un incisore che lavora in zecca veramente dal 57 quando ha fatto le caravelle e poi eccolo qua eccolo qua il rovescio prendiamoli pure qua usiamo i nostri cofanetti che sono bellissimi eccolo qua il rovescio della Croce Vaticana città del Vaticano 100.000 lire questo è il più raro 100.000 lire coniato da durante il pontificato di Giovanni Paolo II parliamo appunto del 100.000 lire monogramma di Cristo che è l'8.971 molto bene a 2.400 euro ma non abbiamo solo il 100.000 abbiamo anche il 50.000 e il 50.000 lire invece si chiama crocifissione e lo capiamo immediatamente perché si chiama crocifissione con questa croce molto particolare molto direi bella molto ricca di particolari dettagli e questo lo stiamo ammirando su quello che è il suo rovescio vedete l'anno 2001 e poi appena mi dite che è possibile faccio vedere anche il diritto ecco questa è una moneta curiosa perché vedete sul diritto ci riporta di nuovo questo schema del questa immagine di Giovanni Paolo II così come noi l'abbiamo ammirata sul 100.000 lire però adesso per farle vedere bene magari prendo un espositore e le tiro fuori perché almeno poi Alberto ve le può anche perché è una novità assoluta o meglio lo è nella ragione in cui sono molto molto rare e quindi sono riuscito a trovare un esemplare ve le voglio far vedere sui rovesci perché sono stratosferici la posso lasciare qui Alberto vuoi che te la sposta non ti muovi tu allora vi vado anche a dare qualche dato tecnico che vale per tutte queste monete di Giovanni Paolo II pensate che le dimensioni sono di 7 grammi 1,5 per i 50.000 e di 15 grammi per i 100.000 oro 917 quindi un oro molto alto come lega parliamo di un diametro di 23 mm per i 50.000 e di addirittura 28 per i 100.000 quello che stiamo ammirando e poi passiamo magari anche alle monete successive è appunto la croce ispirata la crux vaticana del VI secolo dopo Cristo conservata nel tesoro della basilica di San Pietro è quella che abbiamo sul 50.000 quindi pensate il tutto dentro il cerchio di perline attorno appunto alla scritta città del Vaticano mentre invece sul 100.000 abbiamo il cristogramma cioè particolare da un sarcofago del IV secolo dopo Cristo conservato nei musei vaticani tutto anche nel cerchio di perline vi dico questi particolari perché sono monete che dal punto di vista estetico oltre che dal punto di vista di rarità di collezionismo di grande importanza sono qualcosa di pazzesco quindi oggi c'è un'occasione più unica che rara riassumendo il cofanetto il cofanetto completo di quelle che sono le monete di Papa Giovanni Paolo II verso l'anno santo possiamo rivederlo Enrico lo prendo io lo fai tu dimmi tu cosa fare eccolo qua perfetto quindi collezione completa i dittici formati dal 100.000 e dal 50.000 dal 96 al 2000 verso l'anno santo verso quel giubileo meraviglioso del 2000 ognuno di questi dittici costano costa 2.500 cioè 1700 euro per un 100.000 e 800 per il 50.000 voglio una conferma da uno di voi di tutto il cofanetto e sarà il primo a poterlo vedere in maniera privilegiata e sceglierlo passando davanti a tutti gli altri chiamate per scegliere un dittico alla volta cercheremo di accontentarvi laddove appunto non va in conferma il cofanetto completo guardate la statua di San Pietro guardate che meraviglia quello del 2000 e poi completato quello che è il cofanetto completo che di fatto vuol dire tutta la monetazione in oro in lire di Giovanni Paolo II manca mancava adesso c'è il magnifico dittico magnifico dittico del 2001 l'introvabile quello che infatti costa un po' di più l'avete anche visto 1100 euro per il 50.000 e 2400 per il 100.000 certo è che chi ha già fatto questo non si lascia scappare il 2001 chi volesse essere io lo dico sempre conservativo dice ma tu mi dici di essere conservativo o di scegliere le cose più care certo perché di fronte a una scelta e a un consiglio di Lorenzo Lamorte meglio una in meno ma bella importante e rara allora se si decide di fare una collezione delle monete d'oro di Giovanni Paolo II cominciate dal vertice cominciate dal 2001 se devo darvi poi le altre magari sarà un po' più facile trovarle ecco quindi c'è la possibilità di dilazionare il pagamento provate a chiamarci provate a dire vabbè dai facciamo un conto unico vediamo dove arriviamo vediamo come potete trattarmi vediamo come possiamo dilazionare se c'è possibilità vi accontenteremo devo chiudere beh il tempo è finito come al solito è volato vi ringrazio e vi do un caro arrivederci alla prossima trasmissione grazie a tutti